Buongiorno a tutti oggi siamo alle cascate del rio Incamante questa è la strada qui alla notte sinistra abbiamo il parcheggio il parcheggio abbiamo le arti di cappiumone bene adesso siamo pronti per poter andare a fare la neve via che si parte ed eccoci qua primo a pepio noi andiamo a sinistra come indicato dalle trecce eccole qua via qui 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 è da dissesa qui si può vedere quindi Eccoci qua, prendiamo un'abitazione e poi ci vediamo di qua, perché di qua ci va un'abitazione che non è arrivata, quindi qui anche lì. Eccoci la stessa forma, questo è un impatto, quello è morta, bene. Eccoci la stessa, è un'abitazione, è un'abitazione. Eccoci la stessa, è un'abitazione. la metto io non potere facile ce la facciamo e da qua andiamo avanti un po' così andiamo un po' avanti bene andiamo qua andiamo bella 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 veramente una belletta tastata infamante a vedere dopo di che riprendiamo il giro direi che possiamo prendere il nostro giro che non è per niente non è per niente via via ed eccoci arrivati un'altra arruccia un'altra 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 adesso dovremmo salire bene e per quanto appassi ok un'altra 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 sempre un porto grande e basso Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, niente. Sì, vediamo un po'. Sì, vediamo un po' di più. Sì, vediamo un po' di più. Sì, vediamo. Sì, vediamo. Sì, vediamo. Sì, vediamo. Sì, vediamo. Sì, vediamo. Forse... Bene. Bene. Questa mattina. 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 Questa mattina.